Né ulteriori contagi né decessi, il quadro pratese del coronavirus non subisce alcuna modifica secondo il bollettino che la regione ha diffuso oggi. I bilanci restano dunque fermi a 546 positività e a 44 morti. Un dato, il doppio zero, che si era già visto a Prato e che si ripete confermando che la strada, dopo giorni complicati, sembra davvero essere in discesa, come anche nel resto della Toscana, dove i nuovi casi sono 24, sei in meno rispetto all'incremento di ieri e per la metà emersi dai test seriologici che la regione ha promosso per diverse categorie di lavoratori già dalla fine di aprile. Il numero di pazienti positivi al coronavirus sale a quota 9.883. Nelle ultime 24 ore in tutta la Toscana si sono registrati tre decessi, due uomini e una donna, età media a 68 anni. I morti dall'inizio dell'epidemia sono 976. In crescita le guarigioni, oggi se ne contano 241 più di ieri, totale 5.739. In larghissima parte, 4.226 casi, si tratta di guarigioni virali, di tamponi di controllo, cioè risultati negativi. Arretra ancora il numero delle persone ricoverate, che sono 305, 32 in meno di ieri e di queste 67 sono in terapia intensiva. In calo anche il numero delle persone in isolamento a casa perché, pur positivi all'infezione, presentano sintomi lievi che non necessitano di cure ospedaliere e in calo anche il numero di coloro che sono isolati perché entrati in contatto con pazienti che hanno contratto il virus.